Area di crisi complessa, se ne è parlato ieri nel corso di un incontro, che cosa è emerso? Sì, ieri abbiamo avuto la necessità di incontrare i 23 sindaci del comprensorio che ruota attorno a Gela, si tratta di 4 province, appunto 23 comuni, è venuta buona parte di questi sindaci, perlomeno quello che assorbe il 95% delle risorse e degli investimenti previsti per l'insediamento di nuove attività produttive, l'intenzione è quella di firmare entro lunedì e martedì massimo un documento congiunto, che è un atto di indirizzo dei territori nei confronti della regione siciliana per muoversi urgentemente sulla reperibilità dei finanziamenti certi che devono essere condivisi col Ministero e che devono permettere l'insediamento dei nuovi investitori. Quali sono le tempistiche previste? Noi ci auguriamo che il tutto si concluda prima dell'insediamento del nuovo governo, il che potrebbe portare al contrario notevoli ritardi all'iter di conclusione dell'area di crisi per l'insediamento delle nuove attività produttive.